Vicenda nuova Ises, interviene il presidente Tullio Gaeta che spiega le ultime novità in merito alla delicata situazione e le proposte che loro avanzeranno anche al Ministero. Noi abbiamo invitato il commissario a scendere nella settimana prossima, credo giovedì, a venire al centro pocifunzionale perché come tutti sapete siamo arrivati al quinto bando di gara che per uno strano motivo doveva scadere il 7 di dicembre, è stato sviltato al 14 perché il commissario dice che un'attestata giornalistica non l'ha pubblicato per cui ha dovuto spostarlo al 7. L'imprenditore milanese c'è, sta ancora pagando le fatture, ha intenzione di fare una manifestazione di interesse però a questo punto fuori dal bando perché il valore del ramo d'azienda espresso nel bando non è consono alla realtà, per cui noi il 14 pomeriggio presenteremo una manifestazione di interesse al commissario il quale si accetterà di andare anche in evidenza per dare alla facoltà a chiunque di poter partecipare alle stesse condizioni. Noi ne saremmo felici perché questo è l'unico modo per poter salvare i posti di lavoro, altrimenti tutta l'operazione salta.